Si può suddividere l'impianto elettrico di casa in due e andare a contabilizzare i consumi? Ciao, sono Alessio Piamonti, sono da oltre vent'anni un progettista di impianti elettrici e sono anche il fondatore del primo brand in Italia che divulga in maniera chiara, semplice e a volte anche divertente le normative del settore elettrico. Oggi risponderò a questa domanda. È possibile suddividere l'impianto elettrico di un'abitazione? Ma dipende, perché diciamo che da qualche anno a questa parte ci sono alcuni vincoli previsti dall'autorità, quindi dall'ARERA, attualmente si chiama ARERA, per cui non sempre è possibile fare questa suddivisione. In questo caso specifico mi veniva fatto un quesito in cui c'era questo cliente che voleva suddividere il proprio appartamento in due per dare una parte al figlio, però catastalmente l'appartamento rimaneva uno solo. Quindi alla fine, essendo, potremmo dire, nella piena disponibilità di un unico soggetto, anche se la dava, diciamo, in locazione al figlio, ma comunque rimaneva un'unica unità immobiliare, sì, si può fare, si può avere un unico contatore di energia, si possono suddividere gli impianti, si possono mettere dei contabilizzatori separati, magari per i due impianti, in modo da vedere quanto consuma uno e quanto consuma l'altro. Diverso sarebbe stato se avessimo avuto due distinte unità immobiliari. A quel punto queste unità immobiliari tendenzialmente non si può andare ad alimentarle con un unico contatore e mettere i due contabilizzatori, ma ci vogliono due contatori, quindi uno per ogni unità immobiliare. E attenzione perché, mentre sto registrando questo video, stanno iniziando anche i primi controlli per andare a verificare che effettivamente non ci sia qualche utente che fa il furbo. Perché dico così? Perché in sostanza, se abbiamo una sola fornitura, anziché averne due, quando ne sono richieste due, vuol dire che c'è solo uno che paga le quote fisse della bolletta, l'altro non le paga e di conseguenza vogliono andare a verificare e sanare queste situazioni. Se vuoi rimanere sempre aggiornato su tutti questi argomenti del settore elettrico, ti invito subito ad andare a guardare a questo link perché troverai una bella sorpresa per te. Ciao professionista!